Sì, con Cara Calabria noi mettiamo in luce quello che è uno sviluppo possibile per questo Paese. Rifiutando lo sviluppo immaginato dal ponte sullo stretto piuttosto che dalle centrali a carbone, noi pensiamo che lo sviluppo sia dato dal rinnovamento nel mondo dell'agricoltura. Peraltro l'indagine Svimez di ieri conferma che è un terreno in ripresa. Altri settori sono quello delle energie, energie rinnovabili, l'intreccio delle energie con il rinnovamento dell'edilizia, il riciclo dei rifiuti con il recupero delle materie prime, il turismo, la cultura, il ruolo delle scuole nei comuni piccoli e grandi è fondamentale. Ecco, questa carovana disegna una vera e propria mappa di quello che può essere il futuro della Calabria, a cominciare da oggi, però non è un futuro da rinviare al 2050. Significative due tappe, quella conclusiva e poi quella del 2 di ottobre. Al centro i temi che interessano l'energia, il no netto al carbone che non è un no condito da pregiudizi, bensì da dati ormai accertati. Sì, il primo dato è che noi non abbiamo bisogno di nuove centrali, abbiamo una potenza installata che supera i 113.000-114.000 megawatt e un consumo che non va oltre i 52.000-53.000 megawatt al giorno, nel punto di massima di consumo. Quindi siamo più che tranquilli nel prossimo futuro. In più in questa situazione abbiamo tante centrali, soprattutto quelle a turbogas, le più moderne, le più efficienti, le meno inquinanti, che girano al minimo di giri, diciamo, come se fosse un motore di automobile. Quindi di questo non abbiamo bisogno. In più c'è una grande espansione delle rinnovabili, se consideriamo che in tre anni abbiamo installato tante rinnovabili quanto l'equivalente di una centrale nucleare e mezzo. E ci abbiamo messo solo tre anni, senza danni all'ambiente e soprattutto senza danni alla salute delle persone.